La colecisti è un serbatoio situato sotto il fegato che serve a concentrare la bile ed avere una riserva quindi di questa sostanza, serve per la digestione ma soprattutto dei grassi e avere una quantità di bile sufficiente alla digestione al momento in cui si mangia e quindi dalla colecisti viene riversata nell'intestino e attiva i processi di digestione dei grassi. Quindi principalmente si hanno due tipi di calcoli che si possono determinare che sono i calcoli di bilirubina e i calcoli di assolato di calcio. I sintomi diciamo che sono molto specifici, difficoltà a digerire, rottazione, bruciore all'epigastrio volgalmente definito come la bocca dello stomaco dal paziente, come piuttosto specifico invece è il dolore di tipo colico. Basta un'ecografia addome e già ci lascia vedere se la colecisti contiene calcoli ma ci permette anche di vedere se ci sono delle disformie e può diventare anche un test funzionale nel momento in cui noi dopo una prima valutazione della colecisti facciamo assumere al paziente un pasto grasso e vediamo se lo svuotamento della colecisti avviene, come avviene e in che tempi avviene. Cosa fare? Diciamo che l'indicazione è chirurgica, a meno che non si parli di una fase iniziale in cui c'è soltanto un ispessimento della bile che si può tentare una terapia medica con dei farmaci che tendono a fluidificare la bile ma alla base della formazione dei calcoli, come avevo accennato prima oltre alla composizione della bile stessa c'è anche un alterato svuotamento della colecisti per cui questa bile tende a ristagnare e questo ristagno, associato magari a processi di flogosi porta alla formazione dei calcoli nel momento in cui si formano i calcoli è assolutamente indicato l'intervento chirurgico ma quelle che sono le complicanze espongono il paziente a delle situazioni patologiche molto più gravi della colica principalmente sono l'ittero e la pancreatite l'ittero, che è la colorazione gialla bene o male tutti sappiamo cosa significhi ed è dovuta alla migrazione di eventuali calcoli nel dotto principale che è quello che porta poi il coledoco che è quello che porta la bile all'intestino l'ostruzione di questo dotto determina un riassorbimento della bile stessa e quindi la colorazione itterica dei tessuti inizia sempre con le sclere e poi si diffonde a tutti i tessuti la pancreatite invece è una malattia ancora molto più severa che succede nel momento in cui questi calcoli si vanno a incugnare nel luogo in cui si sboccano nell'intestino che c'è un piccolo sfinterino che si chiama sfintero di oddi ed è in comune con il dotto pancreatico quindi cosa succede? Che questo ristagno si ripercuote anche sul dotto pancreatico creando un blocco e una ipertensione a livello del dotto di Wilson che è il dotto principale del pancreas creando un'infermazione del pancreas che si chiama appunto pancreatite sono degli eventi che se presi in tempo e affrontati vengono risolti anche in maniera poco traumatica con un intervento endoscopico che consiste nell'andare a allargare questo sbocco e favorire la fuoriuscita dei calcoli e quindi eliminare questa ipertensione e risolvere il problema a questo in un secondo tempo deve seguire comunque la bonifica della via biliare con l'asportazione della colegisti perché la fonte di origine dei calcoli è sempre lì l'indicazione viene resa facile dal fatto che oggi l'intervento di asportazione della colegisti è un intervento abbastanza rutinario che viene effettuato con due giorni di ricovero grazie alla laparoscopia non occorre aprire l'addome ma praticando dei fori nella parete addominale si può accedere alla cavità addominale e quindi fare l'intervento senza aprire l'addome e questo consente una ripresa dal punto di vista funzionale del paziente immediato cioè il paziente esce dalla sala operatoria se vogliamo forzare a fare spettacolo posso uscire a piedi dalla sala operatoria ma non è il caso di fare spettacolo per cui già la stessa sera il paziente si alza va in bagno comincia a bere e dall'indomani mattina dalla colazione comincia un pasto normale quindi la facilità con cui si fa l'intervento e la facilità con cui il paziente si riprende dall'intervento ha indotto nel tempo a dare un'indicazione molto più frequente molto più facile diciamo alla colecistectomia è quello che dico io sempre quando ho una patologia con l'andare degli anni i guai, gli acciacchi si sommano quindi se oggi hai, non so, 50 anni non sei un cardiopiatico non hai il diabete non è detto che a 60 anni avrai le stesse condizioni di salute io oggi per esempio ho operato una paziente di 84 anni ovviamente che una paziente di 84 anni non dà l'indicazione a cuor leggero cioè non è che ha la calcolosi e la operi ha la calcolosi ed è estremamente sintomatica e allora diamo la possibilità a questa signora che è arrivata a questa venerante età di continuare a vivere senza più disturbo e allora diamo la possibilità